Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vedremo come calcolare la curva di Engel e la curva reddito consumo in caso di beni perfetti complementi. Come al solito partiamo da una funzione di utilità che è pari al minimo tra x e 2y e andiamoci a calcolare subito la reddito consumo.